Salve a tutti e ben ritrovati presso la farmacia Veneto. Oggi ci dedicheremo all'erboristeria ed in particolare vi presenterò TWICE, le nuove tisane da bere direttamente in acqua fredda. È un nuovo modo di bere la tisana anche in estate, quindi non necessiterete più, vi porterà a debollizione l'acqua, prendete un filtro di numerosi infusi alla frutta che ci sono, non lo immergete direttamente nella tazza e in 7 minuti la vostra tisana è già pronta da bere, senza zuccheri e senza coloranti, di conseguenza può essere adatta a tutti, dagli adulti ai bambini e per qualunque schema alimentare. TWICE è disponibile in due versioni, nelle latte sfuse, quindi da dosare con un semplice cucchiaio, ovviamente necessiterete di un filtro d'acciaio o di filtri in catta monouso, oppure nella versione già in filtro, in questi sacchetti, dove praticamente la tisana è già confezionata in un filtro in carta ed è tutto già pronto da bere. Lei è piperita e la bottiglia in vetro con all'interno il filtro, è molto comoda perché basta svitarla, inserire la tisana all'interno del filtro, mesciare l'acqua e portarla sempre con voi, con questo apposito guantino per mantenerla a un paio d'ore fresca. Poi ci sono i termos, questi possono essere utilizzati per la TWICE ma anche in inverno perché essendo dei termos mantengono la vostra tisana calda o fredda dalle 6 alle 7 ore, in tre diverse fantasie. TWICE è adatta a tutti, dagli adulti ai bambini, ma anche se avete degli ospiti in casa, piuttosto che offrire le classiche bevande gassate e piene di zuccheri, potrete offrire TWICE ai vostri ospiti utilizzando le comode teglieri in vetro già con il filtro incorporato. TWICE è una nuova idea sana e genuina di bere infusi alla frutta e soprattutto anche per l'estate, comodissima da portare al mare per reidratare vitamine e minerali. E ricordate, la vostra salute è la nostra felicità!